Oggi la mostra la emoziona un po' dopo 40 anni? Mi emoziona perché sono passati 40 anni e sono passati anche per me. Comunque la stagione della costruzione della regione fu una stagione difficile ma entusiasmante. I risultati sono che è nata. Le speranze che avevamo all'inizio, beh, speriamo ancora. Ciò che si pensava all'inizio era la regione come un piccolo Stato maggiore che dovesse dare un po' di impulsi ai comuni, alle province della Toscana. Adesso è diventata un gran ministero e in questo senso è diversa. Hanno un compito diverso gli amministratori di oggi. Ecco, la regione toscana però è ancora la regione dei diritti, dell'innovazione, della civiltà dei toscani. Diciamo di sì. La signora Montemaggi ha presieduto il consiglio regionale per una legislatura con superlativi risultati. E poi c'erano alcune consiglieri regionali che sono sempre state puntuali, precise, non facevano assenze, presiedevano delle commissioni di lavoro. Il tempo le ha portate via, me non ancora. Insomma, io ho un buon ricordo del contributo femminile alla nascita della regione. Grazie.